9 secondi da vivere tutti d'un fiato, sempre l'azione di domenica scorsa, la palla parola della squadra avversaria, non bisogna commettere il pallo, bisogna portare di nuovo una limita, porta contro un utombo, porta sulla sirena, che canestro porta, che canestro. Bonora, stoppato a direttura da Dobbins, Livorno e Spugna, Avellino, 81-78, c'è un'invasione di campo, attenzione, non bisogna però eccedere, non bisogna però eccedere. Livorno ha segnato due tiri da tre sulla sirena, e purtroppo.